Bentornati su Zwischen Barcelli e oggi parleremo in un brevissimo video approfondimento di come combattere le vespe. Molto spesso troviamo l'indo di questi animaletti sotto il connecione di casa oppure in luoghi abbastanza sperduti ma sempre riparati da pioggia e vento. Ecco, cosa fare quando si trova uno di questi vivi? Beh, la cosa principale è non affrontarlo mai quando c'è la luce. Quando c'è la luce le vespe, come è normale che sia, lavorano e quindi sono attente. Bisogna affrontarlo in un momento in cui o non c'è la luce o è freddo e possibilmente verso appunto la sera quando sono tutte ferme e andando prima opportunamente in ferramenta si può comprare uno spray a lunga gittata che costa sui 10 euro con cui poter affrontare in tutta sicurezza le vespe. Tuttavia è opportuno dire che prima di affrontare un lido di vespe, come ovviamente le vespe, è meglio prepararsi la via di fuga perché una volta spruzzato comunque loro cercheranno di vincolarsi perché l'istinto di vita c'è su tutti e quindi vi consiglio di prepararvi una via di fuga per poter scappare velocemente. Questo spray fa azione in 10 minuti. Dopodiché vi consiglio appunto di non dare fuoco assolutamente al lido perché rischiereste di dare fuoco a casa vostra in certi casi. Ecco, vi consiglio con un bastone di rimuoverlo e di ammuntarlo nella spazzatura. Bene, con questo video concluso. Grazie per averci seguito.